ciao ragazzi ciao prof ciao a tutti che bello che siete a scuola è bella la scuola quando non sei più a scuola c'è questo ricordo che bella che era la scuola quando sei a scuola invece dici ma quando è che finisce la scuola comunque io sono qui con voi quasi lì con voi perché i volontari di emergency quelli di emergency mi hanno detto che sugli stranieri quando vi incontrano alle scuole voi ripetete sempre le stesse frasi cioè avete una serie di frasi che ripetete tipo stereotipo non so bene se le dite perché le avete sentite o perché le pensate veramente ma siccome alcune di queste frasi le dicevo pure io o quantomeno le ho sentite dire mi sono informata mi sono informata per me e per voi stereotipo numero uno quello più sentito ma proprio che lo senti in continuazione ma se sono poveri com'è che ci hanno tutti questi soldi per il cellulare la cosa che ci fa incavolare che hanno il cellulare più bello del nostro allora oggi come oggi uno smartphone ma voi lo sapete che siete ragazzi costano pochissimo e tra l'altro nei paesi di origine spesso loro utilizzano dei cellulari che sono rigenerati ci sono quelli che buttiamo noi in più è l'unico modo che hanno per stare in contatto con le famiglie è per scoprire quali sono le rotte di migrazione se ci sono dei pericoli lungo la rotta e quali sono i paesi che accolgono nel migliore dei modi quindi direi che per loro è fondamentale stereotipo numero due vengono tutti in italia siamo invasi allora l'anno scorso in italia sono arrivati 175 mila emigrati di questi quasi la metà sono solo passati e sono andati in altri paesi hanno preferito altri paesi sono furbi soltanto 83.200 hanno fatto richiesta d'asilo in italia considerando che noi siamo circa 60 milioni di abitanti in italia facendo la divisione cioè diviso 83.200 fatevi aiutare dalla professoressa di matematica o fate dei gruppi di lavoro ma veramente 720 italiani non sono in grado di accogliere un emigrato io non ci credo stereotipo numero 3 ogni giorno prendono 35 euro anche 50 secondo me anche di più senza lavorare allora gli emigrati che arrivano in italia seguendo le rotte migratorie prendono 35 euro al giorno secondo voi è possibile no non è così 35 euro al giorno li prendono i centri di accoglienza per vitto alloggio e per pagare gli addetti ai lavori e ai migranti arrivano 2 euro e 50 al giorno 2 euro e 50 al giorno che ci faccio con 2 euro e 50 al giorno io ci compro il pane a Milano costa caro stereotipo numero 4 sì ma poi vengono qua e ci portano solo problemi e un sacco di malattie anche questo non è vero perché è vero che quando arrivano quando sbarcano spesso gli emigrati hanno dei problemi di salute perché ovviamente hanno fatto un viaggio così difficile spesso attraversando deserti è chiaro che quando sbarcano possono avere dei problemi per la durezza del viaggio e quindi possono avere delle malattie intestinali malattie della pelle ma immediatamente quando sbarcano vengono visitati e subito viene iniziata una profilassi quindi come facciamo noi a prendere le malattie degli emigrati visto che non entriamo in contatto con loro quando sono malati è più facile prendere due materie a settembre stereotipo numero 5 ci sono tanti italiani da aiutare ma perché non utilizziamo le nostre tasse per aiutare gli italiani allora intanto paghiamo le tasse visto che non le paga nessuno paghiamo le tasse e poi una cosa non esclude l'altra stereotipo numero 6 ma perché non li aiutiamo a casa loro a casa loro li dobbiamo aiutare così siamo tutti più tranquilli peccato che a casa loro ci siamo stati prima noi e abbiamo gestito la politica distrutto stati rubato risorse eccetera eccetera stereotipo numero 7 ci dicono che dobbiamo essere accoglienti che dobbiamo essere buoni perché scappano dalle guerre ma intanto non è vero che scappano tutti le guerre non sono tutti i profughi e poi spesso tra di loro si nascondono i terroristi secondo voi i terroristi non ce l'hanno i soldi per prendersi l'aereo per utilizzare altri mezzi si fanno un viaggio così difficile e così rischioso dove è altissima la probabilità di perdere la vita e poi comunque i terroristi spesso sono ragazzi come voi come me persone che già vivono in occidente stereotipo numero 8 i siciliani parlano solo di mangiare questo è vero questo è vero questo questo stereotipo vi può rimanere nella testa ma solo questo teresa mannino smonta uno a uno i sette stereotipi più diffusi sui migranti che arrivano in italia in questo monologo fa un riepilogo dei luoghi comuni ed esprime le sue idee con intelligenza ed ironia bisogna ricordare che anche gli italiani furono migranti a questo pro ci sorge una domanda i diritti valgono per tutti grazie per questo video tanto necessario i pregiudizi e l'egoismo sono ancora purtroppo fortissimi